La notizia ufficiale partiranno a gennaio i lavori per l'installazione dei pannelli antirumore lungo il tracciato ferroviario di Montesilvano. Una notizia Orsini attesa soprattutto dai residenti. Sì, da oltre 30 anni i residenti, i confinanti con il tracciato ferroviario di Montesilvano aspettano quest'opera che è un obbligo di legge sancita da un centinaio di norme comunitarie e nazionali che impongono l'obbligo di installazione dei pannelli antirumore fonoassorbenti alle città che sono attraversate dal tracciato ferroviario. Quindi immaginate voi lo stress che hanno dovuto subire i confinanti vicino al tracciato ferroviario causato dal passaggio dei treni rumorosissimo. Vi lascio immaginare quando a due metri c'è il tracciato ferroviario e quanta difficoltà e quale inferno vivono le persone all'interno delle case che sono costretti a interrompere un discorso che fanno quando parlano, quando ascoltano la radio, la televisione. Ecco il treno che arriva. Quindi immaginate chi vive quotidianamente da decenni e ha dovuto sopportare lo stress causato da questo passaggio assordante rumoroso dei treni. Lavori che costeranno 22 milioni di euro. Sì, l'appalto è costato 22 milioni di euro. È stata vinta da una gara, è stato gestito interamente da RFI, la rete ferroviaria italiana, quindi le ferrovie dello Stato. Il costo è interamente a carico delle ferrovie dello Stato. Noi ci siamo limitati a gestire come amministrazione comunale la burocrazia, dare tutte le dotizzazioni necessarie. E non vi nascondo le difficoltà che ho avuto in qualità di supervisore dei pannelli fonoassorbenti sotto l'aspetto tecnico, paesaggistico ambientale. Insomma è stata una dura battaglia che per ora rende giustizia al cittadino che, come dicevamo, da anni subisce lo stress causato da rumore dei treni. Considerate che c'erano pronti degli esposti da parte di molti residenti lungo il tracciato ferroviario e quindi abbiamo dovuto dare questa risposta che è un'opera epocale per la città storica, direi, perché comunque sarà destinata a cambiare il volto della città di Montesilvano.